Come ho detto più volte sullo spostamento in area l'ecco, lasciatemi un poco di tempo per guardare le carte, per guardare i conti e per riprendere in mano le delibere assunte in questi mesi dal Consiglio di Amministrazione. Cercheremo di risolverli tutti quanti, a poco a poco, con calma e con prudenza e sentendo gli organi. Grazie. Grazie.